Benvenuti picciotti, sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo video di Airstone e Larissa in compagnia della mia ragazza. Buonasera. Il video esce di giorno, tu dici buonasera. Scusami, ma si vede l'orario in cui lo stiamo registrando? Dopo mentre siamo in gioco, sì, adesso no, perché si vede male che è un po' coperto. Comunque, andremo a sfidarci nella Rissa perché è una Rissa bella, quindi non perdiamo tempo, facciamo già sfida almeno proprio un intro veloce. Ma porcaccia, aspetta che sto avendo dei problemi, non ho capito perché mi fa così la spesa. Ok, ci sono. Oh, accettato. Allora, io faccio questa classe, che lei ovviamente sa già qual è come classe, però vabbè rimarrà sempre una sorpresa perché magari non se l'aspetta, però ovviamente la classe che faccio, eh? Il cacciatore. Tac, perfetto, già preso. Io invece la mia non ti aspetti. Eh, farà, guarda che faccia, non se l'aspettava. Esatto. Eh, guardate questa faccia, non me l'aspettavo. Hai visto? Allora, io non so neanche che Rissa sia più, cioè l'ho letta proprio di sfuggita ma non so cosa devo fare. Sì, vabbè, però ho già le carte nuove che non le conosco. Ah, ci sono anche le carte nuove? Sono solo delle carte nuove, io te adesso dimmi. Ah, io ho tutte carte vecchie a parte una, però vabbè, nuova relativamente. Ma che cazzo? Ah, no, ne conosco una. Beh, una su quattro, due su tutta con la moneta. Ah, è qualcosa. E non fa niente nemmeno lei. Questa la conosci per forza? Questa la conosco, sì. Ma che Rissa è? Perché mi ha distrutto? Praticamente ogni servitore che butti c'è una magia ma può andare contro tutti. Ah, ma non me l'aspettavo. Questa è la faccia di chi? Non se l'aspettava. Ah, grazie. Ah, sì. Non è cambiato niente. Mi ha servito. No, no. Fa... Questa mi fa... Toh, che benessere! Non è servita a niente. Cosa è successo? E alla fine chi lo prende in culo di tutta sta storia? Vai, una magia buona su di me. Vai! Se mi sopravvive il mio, è presente che qua parte tutto. Ma Rissa? Magai, ma va pronto. Boom! Ma che benessere! Allora, questo? Questa cos'è? Cosa fa? Bella! Ma cosa succede? Perché? Eh, ma... Perché, perché? Da che hai tirato una carta che faceva caccare e che ne hai avuto una che... Eh, perché quando l'ho tirata è uscita la magia e trasforma questo servitore in un cinghiale 4-2 con carica e me l'ha trasformato. Non so, qua l'ho visto. Che culo, però. Eh, chissà. Eh, perché a te no. Ma dai! Ho visto che culo! Sprizzo culo da tutti i pori! Mi viene in mente un po' come la Rissa quando mi usciva quella carta per l'arma. Ah, è vero, è vero, è vero. Quando c'era la Rissa, che c'erano tutti i servitori leggendari e c'era quel servitore che equipaggia un'arma casuale. A lei capitava sempre quella che subisce il doppio dei danni. Ma che benessere. Cosa fa? Non l'ho letto. Ah, mi sono curata. Eh, vabbè. E la magia che l'ha tirato qual'è? Eh, non lo so. Non l'ho guardato. C'è anche il primo gioco questa. Almeno c'è una bestia immuna che se capita la magia. Ok, pesco due carte. Fastidio bot. Beh, io non approfitto per distruggerti quello lì. Vabbè. Adesso ci abbiamo anche i servitori in campo. Proprio per chissà i soldi servitori sono. Ma con che musica? Ma che palle. Volevi? Ma utile, utile. Bella, mi è piaciuta molto come campo. Utile. È stata molto interessata. Adesso qua iniziano a giocarsi i servitori pesanti. La banana. Banana, banana, banana. Cosa ha fatto? Non ha capito cosa sta a fare. Cioè, comunque è casino. Cioè, non capisci neanche che cosa fa. Ma le magie loro non sono sempre. No, no, ogni carta che tiri. Che magia tira? Boh, magari ha tirato una magia, è inutile questa. No, ha tirato. Non vedi che fastidio bot ha c'ha due e tre? No, quella è perché gli hai dato io la banana. Ah. Non segui neanche il gioco, però va bene che tardi, non mi lo segui un attimo il gioco. Io butto due. Otto, sette. Cosa è successo? Beh, vabbè. Vabbè. Ce l'hai più duro te. Ah, ma mi ha messo anche un segreto. Ma proprio così. Merda, buono il suo segreto, però. Ok, poi qua proprio si va diretto. Come se non ci fosse un domani. E vabbè. Sei di vita e la si può portare a casa. Aspetta, che qua non si sa mai. Momento di... Ehi, cavaliere Marlock. Ispirazione, ma che è un Marlock casuale. Interessante come mossa. Sì, hai vinto. Cos'era lo squalo? Squalo si va di stile libero. Guarda che tiro. Leroy. Jackie. È già morto. È già morto. È stato bello. Leroy. Jackie. Jackie. Vabbè, l'ho tirato solo per dirlo. C'è anche se la si vince. Uno a zero, signori, signori. Uno a zero. Boom, boom, boom. Direi la rivincita qua. Io propongo la rivincita. Assolutamente sì. Stavolta faccio un mazzo del non se l'aspettava. Immagino. Provo a indovinare. Sciamano. No. Non è sciamano. Eh no. Druido. No. Ladro. Esatto. Volevo dire ladro invece. Ma ladro non gli piace. Sì, sì. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ti do la possibilità di arrenderti già adesso. Ma neanche morto fino alla fine. Forza Juventus. Io parto così aggressivo però. Si parte aggressivo. Ma che benessere, che benessere. Chi parte aggressivo viene premiato. Merda, tre preciso. Assassino paziente. Ma vai a cagare. Ci ho capito solo a me. Ma che cosa vuol dire? Sì, solo a me. Mi ha distrutto il mio servitore e mi ha dato un danno a me. È un 6-2 adesso. Eh, voglio vedere come uno tiri giù. Allora. non ho molto da fare qua. Dopo ci butto una carta che è veramente orrenda. Passo il turno, passo il turno. Non attacco sto giro. Non attacco. Ho tirato questo qua anche se è sprecato ma per il fatto che almeno... Sarà che è brutto. Merda, perché c'è mano a testa di fastidio, bot? È vero che è bruttissimo. Eh, certo. Poi mi rubi le carte. Pensavi non ne potessi più tirare. Cosa è successo? Guarda. Corriere della cabala. Ah, ok. Quello di Amazon. Di Amazon. Il nuovo modo per consegnare, no? Cioè, Amazon sta inventando il drone per consegnare a casa e noi abbiamo qua... Il corriere della cabala. Esatto, che consegna appunto in modo volante. Vabbè. Inutile. Vabbè. Moteva colpir l'altro. No. Ero... Merda! Molto bene. Ma hai visto che belle le carte nuove? Sì. Alcune sono belle. Veramente belle. Potrebbe esserci un ritorno di Airstone proprio like no tomorrow? Dai, però. Eh, ci sto riflettendo. Boom, baby! Che sfiga, però. No, no, non è sfiga. Questa è bravura. No, è sfiga di merda. Merda, però è proprio che ha il pezzo di merda lì. Eh, sì. Io sui mani ho tre carte uguali. Ed è una leggendaria. Che leggendaria è? Questa. Cos'è? E me ne hanno altre due uguali. Eh, vabbè. Eh, l'ho impostato male. Come l'hai impostato male? Pensate che non ci fosse la sorpresa. Nessun passerà. Beh, cosa c'è il test leggendario? Abbastanza. Coltella! Coltellato. Ci si potenza quello. Per non farlo morire si distrugge il suo servitore. Qua può partire il comeback. Come back israel. Cosa? Cosa? Come fa essere 5-4? Eh. Cioè, non solo mi sta battendo in più, uso anche i cheat per battermi. Aumenta così. Ah, bello. Cosa hai fatto? Non ho letto. Ah. Quindi danni pari alla tua arma, ma io non ho l'arma. Ah, buono, buono. Ancora? Eh, ti ho detto che ne ho tre in mano. Quante ne hai usato? Eh, questa è la seconda. Che palle. Oltretutto che orrenda quella carta. Merda, sembra tipo Cerse, quello di 300 chi da duro la vince. Ti mancano solo tipo la catenina e i capezzoli, poi è posto. Eh, vabbè. Un altro segreto? Uh-huh. Eh, mi sa che il comeback non c'è. Così muoiono servitori, rinascono. Come se nulla fosse proprio. Ah, infiltrato warrior. Ma vai a cagare! Con, cioè, 7 e 1. Ti voglio capire cosa sta succedendo. Perché? È il mio segreto. Cos'è successo? Eh, non lo so. Perché? No, io non sto capendo niente. Ma cos'era successo? Perché erano diventati deboli? E poi, tac, di nuovo forti? E poi adesso mi fa il culo perché mi fa il culo? Merda! Eh, sì, spara che io sia il tuo segretore. Indivina che un po' silenziereva. Beh, fra tutti quello proprio da silenziarli. Mi sa che fa il pareggio, eh. Me la rischio così. Non mi è servito a niente. Me la rischio così. Anche se potevo sperare qualcosa di un pochettino meglio, eh. Sinceramente. Beh, finiamo il turno così. Cosa fa? Eh, è utile. Mi è piaciuto. Mi sa che ho perso, però. Anche secondo me è così, eh. Sono gli scudi in alto le bandiere. Eh, cosa fai? No. È uscita da mezzo. Ehi, 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 ehi. È ancora tutti in gioco qua. Volevi fosse finita. Volevi. Quindi attacco la tua arma che non c'ha armi. Ci sono le carte ultime che si stanno giocando. Sugli scudi in alto le bandiere. Fuoco nei cannoni. Ah, mannaggiala. Cioè, io ho soltanto i segreti tutte le volte. Ho la possibilità almeno di poter riaverne una magia buona da che costa zero. Oh, e uno te l'ha distrutto, eh. Uno te l'ha distrutto. Dio, poi me l'hanno fatto male i calcoli. Me la rischio così? Ma vai a cagare! Fra tutti proprio quello! Mi sa che ho perso così. Mi sa che ho perso così. Eh, già, già, signore, signore. Nel intanto una sconfitta rafforza. Perché ciò che non uccide fortifica. Anche se adesso esplodo male. Quindi la fortifica è proprio una beata minchia. E siamo 1 a 1. Vabbè, dai, diciamo che con un pareggio siamo tutti d'accordo. Esatto. Come si suon dire, un pareggio non fa male a nessuno. 1 a 1 non fa male a nessuno. C'è che lo dico. Boh, lo sono sempre sentito dire. Quindi, qua da Stulo e Sdali. Devo salutare? No, vengono salutati in automatico. Hola! È tutto. Noi vi ringraziamo per la visione. Lasciate like. Se il video vi è piaciuto, commentate. Iscrivetevi al canale. Se ancora lo avete fatto, noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella! Con molto entusiasmo per essere ad... Bella!